Vi propongo un breve video di laboratorio in cui abbiamo eseguito quattro reazioni di metatesi. Durante lo svolgimento delle reazioni chimiche troverete in basso a sinistra l'equazione chimica opportunatamente bilanciata. Inoltre i prodotti precipitati vengono indicati con una freccetta rivolta verso il basso. Buona visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!